Benvenuti nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulle serie Turca The Family, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere il prossimo video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. L'improvvisa morte di Ergan sconvolge la famiglia. Tra Aslan, Davin e Uli a tutto andava per il meglio. Fino a quando una tragedia improvvisa non ha sconvolto la loro serenità. La morte inaspettata di Ergan. Questa perdita ha colpito particolarmente Davin, che non è riuscita a salutare suo padre un'ultima volta prima del fatale incidente. Davin ha nutrito profondi sensi di colpa, attribuendosi la responsabilità per la morte del padre. Il sostegno di Aslan a Davin. Durante quei giorni difficili, Davin ha trovato conforto nel sostegno costante di Aslan. Tuttavia, la scoperta di sospetti di omicidio legati alla morte di Ergan ha portato una nuova sfida per entrambi. La polizia ha avviato delle indagini che hanno rivelato due possibili colpevoli. Uli a e l'ex socio in affari di Ergan, Sermet. Le indagini e i sospetti su Uli a. Mentre Aslan e Davin cercavano di scoprire la verità, la situazione è peggiorata quando è emerso che Uli a potrebbe essere stata coinvolta. La rivelazione che Uli a aveva minacciato Ergan prima dell'incidente ha gettato un'ombra su di lei. Questo ha segnato un momento di crisi per Aslan, che si è ritrovato a dover sospettare della persona a cui era più vicino. La pista che porta a Sermet. Parallelamente, Aslan ha continuato a inseguire l'altro sospettato, Sermet. Nel frattempo, Nedret, che nutriva sospetti su Uli a, ha iniziato a condurre le proprie indagini sull'incidente. Alla fine, la verità è emersa. L'incidente non era quello che sembrava inizialmente. La rivelazione finale. Mentre Aslan era convinto della colpevolezza di Uli a, in realtà il responsabile della morte di Ergan si è rivelato essere Sermet. La polizia ha arrestato Sermet, mettendo fine alle indagini. Con la fine di questo incubo, Aslan, Devin e Uli a si sono riuniti, trovando finalmente un momento di pace e felicità durante una cena in famiglia. L'intera vicenda, nonostante il dolore e le difficoltà, ha rafforzato i legami tra i membri della famiglia, ricordando loro l'importanza di restare uniti anche nei momenti più bui.